Lo sport è una fonte di ispirazione immensa, perché nello sport, se si vogliono raggiungere alti livelli, servono forza di volontà, determinazione e coraggio. Ecco quindi la nostra personalissima top 20 delle frasi più motivazionali degli sportivi che sono diventate leggere. Sei un atleta, non un seduttore. Non devi stare lì ad ammirarti, ma a gareggiare. Devi avere fame di successi, di risultati, di gloria. Lo sport non è una spilata. E provarci, per davvero con tutto te stesso. Il successo per un atleta è raggiunto con molti anni di duro lavoro e dedizione. Non puoi mettere limiti, non c'è niente di impossibile. Il consiglio ai giovani da dare è quello di fare sempre ciò in cui si crede. Se hai passione per un qualche cosa e ci credi, dacci dentro. Non è detto che uno ci riesca, ma almeno ci hai provato e non avrai nessuna recriminazione futura. Ma se non c'è amore, passione e sacrificio, meglio lasciar perdere. La forza mentale fa parte del carattere. Non si può studiare al tavolino. Si è forti di testa se si riesce a rimanere sereni e divertirsi anche quando le cose non vanno bene. E se si riesce a non perdere mai la fiducia in se stessi e nel lavoro di squadra. Con il potere della tua mente puoi volare molto in alto. Non sarai mai un perdente finché non smetterai di provarci. Ho odiato ogni minuto di allenamento, ma mi sono detto, non smettere. Soffri adesso e vivi il resto della tua vita da campione. Dove prendo tutta questa forza? Tante persone credono di aver già dato tutto e ancora non hanno tirato fuori il loro potenziale. Ho sempre creduto che non si debba mai, mai rinunciare e si debba sempre continuare a lottare. Anche se c'è soltanto una piccola possibilità. Soddisfa di più una sconfitta pulita dove hai dato tutto, piuttosto che una vittoria ottenuta barando. Mi passo alla volta e con i piedi ben piantati per terra. Nessuna meta è irraggiungibile. Sacrificio, umiltà, intraprendenza. Ecco quali sono stati i miei compagni di viaggio. Sono pronta a sfidare i limiti. La storia li pone. Gli uomini devono superarsi per generare altri ostacoli che puntualmente verranno abbattuti. E lo sport, come la vita. C'è solo un modo per allenarsi. Quello giusto. C'è solo un modo per gareggiare. Quello giusto. I sacrifici li fanno tutti gli atleti. Ma il nuoto è uno degli sport più faticosi in termini di preparazione. Mesi e mesi di allenamenti per una sola gara veramente importante all'anno. Una gara che, nel mio caso, dura un minuto e cinquanta secondi. Più studi in allenamento, meno sanguini in battaglia. L'unica persona che può impedirti di raggiungere i tuoi obiettivi, sei tu. Sento il bisogno infinito di imparare, migliorare, evolvere, non solo per compiacere l'allenatore tifosi, ma anche per sentirmi soddisfatto con me stesso. Ragazzi, alzate sempre l'asticella della vita. Se sei il primo, sei il primo. Se sei secondo. Non sei niente.